Scusate, do per una sua visione di sintesi la parola a Andrea. Io voglio solo fare una notazione, di nuovo ringraziando ciascuno di voi e chi ci sta seguendo in streaming, perché a diretta mi sono arrivati vari messaggi seguiti da molte persone che non hanno avuto l'opportunità di essere qui. Quindi oggi noi abbiamo fatto questo incontro sullo stato di attuazione della legge, ma specialmente rivolgendoci a, ho usato l'espressione, to bridge, creare un punto di convergenza tra i due mondi che si vorrebbe contrapporre. Ed è ridicolo contrapporre, mondi creativi, autoriali, innovativi e l'industria. Non c'è possibilità per i mondi autoriali di agire in modo efficace senza un'industria credibile, non c'è viceversa possibilità per l'industria di esistere se la nostra capacità creativa non è vibrante. E questo era il senso della riunione di oggi. E poi è chiaro che si è intrecciata con tutti gli aspetti della filiera, non c'è dubbio. Oggi però noi non abbiamo parlato specificamente della distribuzione, anche se hanno parlato autorevoli distributori, non abbiamo parlato specificamente dell'esercizio, anche se è entrata da tutte le parti la problematica della qualità dell'esercizio, però da tutti gli interventi abbiamo ascoltato punti di vista specifici. A me pare che tutti hanno contribuito ad una visione d'insieme. A me pare che la cosa importante di oggi e in generale, sta nelle ultime parole di Protti che in fondo riassumono il nostro lavoro, ci sono mille associazioni, mille realtà, c'è un pluralismo irriducibile. Chiaramente Anica è, tra virgolette, l'associazione maggiormente rappresentativa, lo sappiamo. Qua ci sono rappresentanti delle forze sindacali e sociali, se debbono firmare un contratto debbono partire da Anica. Non c'è dubbio. E così dovremo fare per gli stuntman, tra non molto, cominciare ad affrontare problematiche che riguardano anche singoli segmenti, così come è avvenuto per il doppiaggio. Non dimentichiamo che il cinema e l'audiovisivo, e questo è l'altro matrimonio inscindibile, inseparabili, sono ormai a livello globale. Da qui è partita la riflessione di Kimmens, e qui si è sviluppata tutta la discussione tra di noi, e quanti tra i produttori hanno parlato, io vorrei dire, quasi tutti ormai fanno cinema e serie televisive. E quelli che hanno parlato hanno detto, metteteci nelle condizioni di non guardare solo le serie televisive come ossigeno per il nostro avvenire. Quindi, questo è stato lo stato della nostra discussione, il senso e a mio avviso il valore di questa discussione. Su tutto c'è l'impegno che ha preso il Ministro, i decreti stabiliscono automatismi, questa è una cosa molto importante, e solo gli automatismi possono permettere di procedere all'industria e di offrire opportunità a tutta la filiera. È evidente che noi, tra virgolette, io protempore rappresentante dell'industria, non essendo un produttore, e direi per fortuna, né un distributore né un esponente delle industrie tecniche, ma avendo questo compito che svolgo con passione, con vero interesse, di cercare di portare avanti l'intero comparto, abbiamo l'interesse che la legge Franceschini sia attuata secondo i principi precisi stabiliti dal legislatore, quindi i decreti attuativi debbono dare attuazione, come Borrelli per primo ha dato atto, la forma di questi decreti dovrà essere la più semplice possibile, la capacità di farli entrare in vigore la più rapida possibile, perché è vero quello, anche qui che diceva Protti, mi leggo al suo intervento conclusivo, non c'è programmazione quest'estate, ma non c'è programmazione perché non sono entrate in vigore le norme di incentivo destagionalizzanti, perché effettivamente nei decreti c'è un'imposazione molto vantaggiosa per far uscire i film e per non incoraggiare le uscite natalizie che già camminano da sole per il costume che dobbiamo modificare del pubblico e invece far scattare degli incentivi robusti per quei mesi, siamo qui dentro da maggio, talvolta addirittura aprile, maggio, giugno fino a settembre in cui la gente al cinema ha disimparato ad andare. Ci sono molte cose di cui dobbiamo occuparci, ce ne occuperemo, la cosa fondamentale a mio avviso è che cerchiamo di nutrire, se è possibile, un pensiero comune, questa mi pare la grande problematica, perché è evidente che a me piace di più andare in cinema del sé che andare a vedere Wonder Woman o viceversa, chi lo sa, ma un pensiero comune su come debba funzionare questa industria del cinema ci riguarda tutti, come si sconfigge la pirateria con l'ingegno, con la tecnologia, con delle azioni incisive immediate perché porta via 30%? 30% la ricchezza? Fa perdere quante migliaia di posti di lavoro la pirateria? Ed è giusto che abbiamo fatto la campagna con quella impostazione, io faccio cinema e mio figlio, no mio figlio no, però magari un amico di mio figlio che scarica illegalmente fa perdere dei posti di lavoro. e dobbiamo internazionalizzare, ed ecco il mia che è un'occasione, non certamente sufficiente, ma molto adeguata e in crescita, in prospettiva. Quindi è importante anche che si condivida un pensiero, questa è un po' la mia preoccupazione fondamentale, perché altrimenti nella sacro santa, perché qua dentro chi ha un business lo deve portare avanti, chi deve fare un film deve permettere to make ends meet, bisogna che si arrivi a quadrare i conti, chi lo distribuisce, chi gestisce un esercizio, chi ha un pezzo, un segmento della filiera da curare, è chiaro che deve portare a casa i risultati. Però credo che la cosa più importante sia in questo periodo di cercare di condividere un pensiero su dove debba andare effettivamente il cinema. E oggi noi abbiamo soltanto messo alcuni piccoli tasselli per cominciare a condividere un pensiero che tra le diverse anime troppe volte divergenti. Io sono stato contento di andare a Dock It, alla riunione dei documentaristi, perché i documentaristi immaginano, quando ho fatto loro assemblea annuale, i documentaristi immaginano che i documentari stiano sulle palle a quelli che vogliono fare, non è così, non è così, proprio non è così, è il contrario a quelli che pensano al business del cinema. E difendo quello che ha detto la Salabè, perché la Salabè fa un sacco di film italiani e se loro disinvestono, va male il cinema italiano se lo disinvestono dall'Italia. E la legge Franceschini deve dimostrare, e lo dimostrerà, sono fiducioso che tutta la filiera è in condizioni funzionali. Quindi, chi fa un film, tra virgolette, difficile, sapete che in Germania tutti i film sono considerati difficili. Il concetto è che, siccome è una creazione, è una produzione, è un'intrapresa, non c'è una distensione. È film difficile in Germania qualunque film, perché è un'intrapresa complessa. Ma certamente per noi un film particolarmente complesso, un film opera prima, opera seconda, under, per età, quando ho cominciato, l'ultima cosa voglio dire, quando ho cominciato Sorrentino, ma chi se l'è filato l'opera prima e l'opera seconda di Paolo? Zero. E poi è spuntato un talento gigantesco, che ora è un'icona internazionale. E siamo pazzi, che consideriamo che soltanto chi è arrivato, chi è riuscito, chi è consolidato rappresenta il nostro cinema. No, il nostro cinema vive se ha la capacità di fare spuntare molti più, molti più Sorrentino, molti più produttori che siano in grado di fare, scusatemi, Ficarre e Picone, è andato via Gian Paolo, Ficarre e Picone ha fatto un piccolo miracolo, ci scommetteva qualcuno che facessero, ha fatto un film, è misurato loro, ha azzeccato con la loro cifra, ha fatto più di dieci milioni e quindi ha dato anche soddisfazione al Botteghino, non è stata una cosa insignificante, tutt'altro, tutt'altro, ha avuto un suo significato creativo, di messaggio, di linguaggio, industriale, di Botteghino. Quindi non voglio dire che dobbiamo farne, però dovremmo farne di più, ma il messaggio a mio avviso conclusivo di queste piccole riflessioni è condividiamo, cerchiamo di condividere pensieri che ci permettano non di avere un pensiero unico, che non c'è, ma di avere una riflessione comune per il bene di un'industria senza la quale non c'è identità italiana, quest'anno la Farnesina dedicherà al cinema la settimana della lingua italiana, beh non so chi c'è, cambia il ministro, se ho le lezioni, però l'ha decisa Gentiloni quando era la Farnesina e la porterà avanti al Fano. Ci sarà in tutte le ambasciate, in tutti gli istituti di cultura, in tutti i consolati, una settimana di film italiani per la settimana della lingua italiana, in lingua italiana. Ma qual è il veicolo più pazzesco e clamoroso di promozione? Mi viene a dire mille cose, ho incontrato Dodd l'altro giorno, il capo di MPAA, lo sapete quanto fa nelle sale americane Food e quanto fa nei biglietti? Questo interpella anche i nostri esercenti. Dunque Food fa 75% degli incassi del cinema americano. Non possiamo ridurre, anche qui, i cinema all'antagonismo popcorn, pellicola o ex pellicola, perché i cinema debbono vivere anche, viva Dio, fare, ce l'aveva detto nella riunione che abbiamo avuto sui cinema, ce l'aveva detto Paolo Virzi, prendendo degli esempi di cinema spagnoli, ma perché noi non dobbiamo avere delle sale di cinema dove i ragazzi tornino perché c'è la possibilità di consumare buon cibo italiano, passare delle ore, tornino di moda, tra virgolette, le occasioni di convivialità nelle nostre città, riconquistare i centri storici. Quante migliaia di comuni non hanno un cinema in Italia? Porca miseria. In quanti cinema non c'è la pubblicità nei cinema? Perché non arrivano i canali di promozione, che sono fondamentali per far vivere tutta la filiera. Potrei andare avanti molto a lungo, però voglio dire, noi dobbiamo cercare di fare tutto questo, tutta questa serie di cose insieme, nei limiti del possibile. Anica non ha nessuna pretesa egemonica assolutamente, di raccordo sì, indubbiamente, di servizio assolutissimamente sì e dobbiamo aiutare il ministro Franceschini a finire il suo lavoro tenendo conto di un'altra cosa che ha detto che a mio avviso è saggia, cioè c'è poi un anno di tempo per cui se vediamo che questi decreti non funzionano, quello è giusto. Non è una legge in cui già c'è il 25, il 15, il 40, tutte le prescrizioni stabilite legislativamente, i decreti passano, possiamo forse anche migliorarli nella prospettiva che abbiamo, nel caso non funzioni, alcune parti non funzioni, a questo fine serve che tutta la filiera capisca che deve condividere un interesse comune pur rispettando gli interessi legittimi ed anzi sacrosanti di ciascuno. Vi ringrazio.